Benvenuti giocatori in un nuovo video, io sono Andrea e questo è il mio canale, oggi giocheremo a Timblewet Park Continueremo con la storia, cercheremo la valvola e ci hanno accoppato la collega in teoria E andremo a cercarla, e andiamo avanti, ma prima lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale Adesso sigla! Ciao ragazzi, continuiamo la partita, carichiamo E' rimasti qua 27 Allora, c'è stato un problema, è schiattata la tipa là Quindi, secondo me, no, non è schiattata, l'hanno tramortita e trascinata via Vediamo se la troviamo o all'obitorio Se è morta Oppure Anzi, magari Vedi, mi può dire qualcosa a questa qua Non si apre Parla Che posso fare per te, honey? Adesso parte No, non mi sono stato diverso Grazie per la sua help Siamo tornati se abbiamo più domande Qualc'è tempo Apri qua Andiamo via Allora, se non è... perché la linko è il piccolo del cavolo A me non mi fa fare niente Quindi In questo non riparano le robe Un po' Sì Sì Io l'ho andato qua dentro Ecco Ok allora non l'ha salvato Ahia Vabbè Oh ma vai via Basta Maybe they should call it Vampiretron Lots of medical books there Oh looks pretty official Anything coming out of this can be used to arrest Oh look standard CD Oh my god Come più che c'è una schiattata Allora vedere se Nel copo delle fogne magari Ahia Yeah Ahia 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 tutto il cadavere lì, non so che caglia nessuno non so se le autorità conoscono questo non posso aprire questo non voglio prendere questo non ho una varenza per l'adventure game red herring non ho una varenza per un violino malato non ho un violino ne prenderò un po' per l'adventure è una varenza per aspettare non oggi devo concentrarmi un bel carino eh qui c'è da un muro non ho un po' per l'adventure non ho un po' per l'adventure il suo gioco si sembra tagliato, possibili europeo e questo è il lavoro di coroner e questo è il lavoro di coroner è entrato un videogioco potete assicurarli tutti questi granieri che cosa ne fa? sicuramente un bambino di agenti E' un po' di rosa E' un po' di rosa E' la porta d'interno al dinerio. Quella messa! E' fermata. E' fermata. E' fermata. Cosa posso fare per te, honey? Grazie per la sua ajuda. Siamo tornati se abbiamo più domande. A ogni tempo. Ah, vedi che c'è un'altra strada qua. Allora... Vedi che è la valla. Allora, andiamo all'interno dove possiamo parlare. Sto cercando una valla. Abbiamo molti valla. Abbiamo più di valla. Abbiamo più di valla. Vedi il identificatore del modello di due letteri? Sono tutto tubato, grazie. Ok, honey. Scusate se mi bisogna. Bc67. Una velvola bc67. Una velvola bc67. Una velvola bc67. Bc67. Nooo. Un beletto. Un beletto. Un beletto. Un beletto. Abbiamo molti tubi. Abbiamo molti tubi. Abbiamo più di 3000 differenti modelli e modelli. Vedi il identificatore del modello di due letteri? E che è il numero numero? Un beletto. Un'altra delle tubi di hydra-tron si fu fuori di nuovo? Oh, sì! I ragazzi di Pigeon Brothere hanno bisogno di un'altra. Ok. Lo metterò nella città. Ho un'altra per te, honey. Aspetta lì. Scusate lì. Andiamo prima prima di sapere. Qui ti va. Dio i Pigeon i miei riguardi. Grazie. Via. Ok. Però stiamo anche in giro. Vediamo una valvola. Qua c'era già venuto che c'è la stazione. Niente. Ne l'ho dimenticato. Ok, la valvola l'abbiamo trovata. Ora ci resta solo la mappa. Ora. Probabilmente troviamo una mappa dentro. Ero qua. No, non. Ero il WC672. Ero qua. Ero il WC672. Ero il WC672. Ero il WC672. Non c'è nessun biglietto da visita, aiuto! Scusate qui e torneremo a presto! Così! Una mappa! Questa è una mappa per la prima famiglia? Osaten quei le costru spettacolo! No! Vambini al Thimbleweed Nickel Ha 8 anni di esperienza e 2 gradi di giornalismo me dice che sei una fbia No posso prendere la mappa? Non posso prendere la mappa? No posso prendere la mappa? Sono un agente fiori Ok, queste sono due domande Prime, essere un agente fiori non significa che si possa nel mio office golfi e prendere la mappa Abbiamo una piccola cosa che si chiamano la quattro ammendmento e il secondo è che è un prezegno originale, se volete un map, guardate il quickie pal Posso, come privato cittadino, prendere il tuo map? Non, è un prezegno originale Non è un prezegno originale Buon chat, ho una morta per risolvere Tutti i granelli Sono svegliata Si è svegliata Sto sbavando Vediamo cos'è Raccogli È fatto di plastica No murder here Vabbè Ho trovato mille fogne Gira a cacchia Questo dovrei E' un telefono Un telefono pulito Non posso chiamare ma non ho i soldi L'unica cosa che ho avuto da provare queste boxe è un caso di svegli Eh, cosa è quello? Un decino Primi granelli di sabbia Come si può arrampicare qua, no? Ok Ah, quindi c'è un sottro store Ora andiamo a chiamare col decino in teoria, no? Ok Un'altra 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 a l'antico l'ava sono le boxe che aspettano di essere scopata o scopata ma non da qualcuno in questo gioco scusate, sarò con te in un secondo sono abbastanza scopata, come posso aiutarti? sono un agente federale, sai qualcosa di cibo dalla città? tu sei un agente federale, io lavoro anche per Uncle Sam come un agente governo per l'altro, io faccio quello che posso per assistire tu sai qualcosa di più sull'obiettino? no, tutti in casa stanno colpendo il loro mail, come sempre nessuno da mia route è morto e sicuramente poter sapere se fossero non mi raccoglie, ma ho pensato che si sono non è proprio così prestigioso o più difficile come il lavoro postale grazie per la vostra ajuda, torneremo se abbiamo più domande ogni volta hai dei cristalli secondi? e dei cristalli? io sono un agente federale e ho alcune domande per te sai cosa che deve avere trovato il ponte? un ponte? io pensavo fosse un tronco di un abito elegante sai cosa che deve avere o no? che cadavere? pensavo fosse un tronco di un abito vabbè parlare dopo non lasciare la città dove vorrei andare? dove vorrei andare? dove è una floresta? no se ne fu qualcuno o chi è? chi è? chi è? chi è? chi è? è buona benvenuti in Fernanda del Parcune del Parcune di Locale di Occulta è vera è madre Quattro marina? Tu sei qui per i excesi? La vendita di summer? O based on those suits che stai portando i miei registri di taxa? Non ho troppo visitati dagli agenti federali Sono Agent Reyes E' solo qui per cercare delle domande Allora C'è cosa posso aiutare? C'è qualcosa di spettacolo C'è qualcosa di spettacolo C'è qualcosa di spettacolo Da queste parti Ottimo Non so proprio tutto In questo momento Ma se vi voglio portare le domande Posso trovare le risposte che vi servono Cosa serve per trovare il assassino? Non voglio rompere l'agentità Ma abbiamo bisogno di portare l'agentità In questo caso Ho bisogno di andare a fare una visione Ma non mi possa aiutare Viene ogni volta senza un po' di assistenza Se puoi apprendere me una visione di Fungo 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 di Pagano potrei essere potuta aiutare questi non siano legali e il tuo punto è ho i funghi che servono fantastico basta qua vediamo che risposta ci ha tenuto nel ruoto oggi cosa hai visto? a meno che assasera non sono un rago attivano alimentato dalla luce delle stelle non posso aiutare mi fa grazie per i funghetti per una via ce la spassiamo questa notte mi sembra un turbilone cosa è questo posto? è la principale fuori di libri occulti conoscenze e servizi hai bisogno di hexi, cursi, curi o curiosi? vieni a me hai bisogno di voodoo, hoodoo, fortunes o flimflams? vieni a me è molto interessante hai bisogno di fischi o filtrare? vieni a te vieni a te ok, arrivederci vediamo vediamo su di qua non posso non posso no mi sembra non posso non posso Non tocco il bambino ...unless you know what you want. ...I did this guy. ...That's as far to the left that it moves. I'll have to push it to move it to the right. ...That's as far to the right that it moves. ...I'll have to pull it to move it to the left. ...Va beh. Lo scopriremo. Adesso è un po' tardino. Direi che è andato abbastanza bene. Abbiamo trovato... ...la tipa che non è morta. Abbiamo trovato la valvola per andare avanti. C'è questa biblioteca orribile. Avevamo già il fungo, per fortuna. E niente. Spero che questo video vi sia piaciuto. Alla prossima, ciao! ... ... ...